Il mese scorso hanno chiesto a Luca Speracchi un parere sulla forma fisica di Mercedes Schengre e lui ha risposto pubblicando una foto di quando la naufraga si allenava con lui ed ha aggiunto, in questo scatto era quando si allenava con me ed è un dato di fatto. Adesso potete vederla all'isola dei famosi e datevi da soli delle risposte. Non mi alleno con lei da un anno e mezzo. Potrei esprimermi, ma non lo faccio, anche se è il mio lavoro. Non vorrei anche essere accusato di parerismo. A distanza di qualche settimana l'ex naufraga ha risposto a questa storia dalle pagine di nuovo. Secondo Mercedes i commento di Luca Speracchi non è stato carino, quella è una sua opinione. Non è carino commentare il fisico di una ragazza. Lui ha l'abitudine di esprimersi così. Noi ci siamo lasciati da più di un anno. Spero che sia felice nella sua nuova vita che però non riguarda più la mia. Questa è una storia che mi rimarrà nel cuore per sempre. Abbiamo vissuto momenti bellissimi ma verso la fine litigavamo davvero troppo e ci siamo allontanati. Non abbiamo più avuto nessun contatto, neppure telefonico. Non c'è né motivo. Resta ciò che abbiamo condiviso. Luca Speracchi non è il motivo dell'allontanamento tra Mercedes ed Eva Enger. Il mese scorso Luca Speracchi ha parlato a Bici del litigio tra Eva e Mercedes. Il ragazzo ha anche spiegato che le accuse che Eva ha mosso contro di lui gli sono costate care. Per fortuna anche Mercedes ha confermato che per Acchi non c'entra nulla nella crisi tra lei e la madre. Se lui è stato la causa dell'allontanamento con mia madre Eva, non sono d'accordo. Ora avremo occasione di parlare e chiarire in privato. Lasciamo da parte le persone che si intromettono nel rapporto madre-figlia. L'importante è quello che ci eravamo dette noi e le cose che ci avevano ferito reciprocamente, ha spiegato.